Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vedremo l'ultimo episodio di Competition is Life del 2019 In questo video vedrete veramente catture a raffica uno dopo l'altro Un lancio, un pesce, un lancio, un pesce Veramente una cosa incredibile E vi anticipo una cosa Quest'anno Competition is Life nel 2020 Ci saranno sia gare al colpo che gare a spinning Sia in mare che in acqua dolce Dunque mi raccomando ragazzi preparatevi Perché quest'anno usciranno un sacco di nuove Vi dico solo che ce ne ho già tre di sicure Tre Per quanto riguarda maggio-giugno Ci sono un sacco di gare da poter fare ancora Quindi mi raccomando ragazzi lasciate like Condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E al massimo ci vediamo alle gare E al massimo ci vediamo alle gare E al massimo ci vediamo al dado no no vorremmo farsi un giro in acqua semmai provo a quelli che ti ho dato io semmai io sto usando quello vai vieni fuori vieni fuori cancro vieni fuori no qua ho bisogno di guadino vieni ma perché non riesco più a prenderli al volo una volta ero bravo non so anche alla punta morbida vai va bene va bene mi riesco a falla magari avrei avuto una pescata così qualche domenica fa hai visto che l'hai toccata vai purga qui quando hai pasturato bravo 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 continua a usci no aspetta cosa oh c'è la dietro di stacca in acqua è passata un'ora e sette sì io forse ho usato troppo non so no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ho cambiato l'amo perché erano gli ultimi sgoccioli di vita e prima gli perdono un bel pesce, meglio cambiarlo! Ho messo anche un amo più grosso! No! 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 Decidete! Decidete! ho preso si ma c'è tutta questa roba che mi si slama si sta tranquillo si è nuova tecnica pesca il volo meta ok bravo 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 dai draghe bravo 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 sonda 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 perché si è alzata altri 20 centimetri bravo dai dai vieni su ok ok vai 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 il cazzia da dai 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 va dentro va dentro va dentro va dentro la si ok no No, 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 no. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Portala, portala. È un cavetano o quello? Probabilmente. niente scherzavo portalo su l'importante è averlo su perché dai 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 su forza si anche io ne ho presi piccoli l'importante è averlo su oplà oplà ok vai kri vai kri vai kri vai kri no c'è martella no c'è martella non importa se sono piccoli l'importante è la sostanza finale dai 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 sto cercando io la taglia tranquillo bestia sto cercando io va tranquillo va tranquillo tu fai peso io cerco il grosso sto cercando io sto cercando io dai fa un culo so per la merda ingordo come quella porca merda lo sbaglio 2 1 dai qui hop ah dai 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 vieni vieni cancera dai fatti sulla mano vai dai 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 una bel taccopà qualcun con il lancio qua taccopà qualcun ti ha sentito il piano dai su recuperiamo ritiri su più velocemente si e non mi importa buono grande cristian grande ma cristian tiralo su zitto e tiralo su dai che se nega fa peso fa peso è buono il cefalo pesa oi no knife Vai, vai, vai Buono così Dai che non serve quella Ok Ma vai ora No, no, faccio io Dai Faccio io che ho bisogno di due orsetti Ciao Tieni pure Dammi due orsetti Butta Dai, grazie Sì, sì, tranquillo Sì, sì, ci sono i ceferi che danno fastidio Dai Bello Dai, vieni su No, 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 no E' un cuore mai Ma va bene è peso Cristian è peso stai anche lavando il panchetto vieni su dai no van bene quelli van bene quelli allora qua vuoi pastura una pallina provo a lanciartela da qua no no provo a lanciartela attenzione eh vabbè vicino ora devi salparle così ora devi salparle su subito gli ultimi minuti perché se no non conta ti ricordo perché come un uovo picco salpare un buso così grande bello dai dagli ancora dai 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 che presa no un minuto ultimo pescello eh ho visto ho visto mai yo ho appena innescato il bigatti ciao